Il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, ha chiarito molti aspetti in relazione alla situazione bradisismica dei campi flegrei. Per ora non c'è nessuna evidenza di risalita del magma, ha detto dinanzi alla Commissione Ambiente. L'Istituto lavora 24 ore su 24 e questo vulcano è tra i più monitorati al mondo. Parole dunque rassicuranti per i tanti residenti della zona flegrea, che da mesi si ritrovano spesso ad essere svegliati da scosse di media entità. La gente ha poca memoria perché tra il 1982 e il 1984 la crisi bradisismica è stata peggiore, ha detto ancora Doglioni. Un problema invece su cui concorda l'esperto è quello del sollevamento del suolo, che ha raggiunto un picco di 4 cm nei mesi scorsi. La velocità media con cui si è verificato il fenomeno è infatti superiore alla norma di 10 mm al mese. Eventi che suggeriscono dunque un'attività vulcanica diffusa e condizioni del territorio mutevoli.